Tra poco Sul canale 17 di Fanno TV, l'informazione locale Sospetta meningite, migliorano le condizioni della bambina ricoverata al Salesi, dagli esami non è meningite Senza esito le ricerche dell'anziana scomparsa si continua a cercare nel porto canale e in mare L'Alma Juventus Fanno batte l'Olimpia agnonese per 4 a 1 Buonasera, da Occhio alla Notizia benvenuti a questa edizione del nostro telegiornale Sta meglio la ragazzina ricoverata all'ospedale Salesi di Ancona per un caso di sospetta meningite Oggi sono arrivati gli esiti degli esami e pare che non si tratti di questa patologia Vediamo il servizio di Simona Zonghetti Buone notizie per la dodicenne di Calcinelli ricoverata dall'altro ieri al Salesi di Ancona Per una sospetta meningite causata dal batterio meningococco La ragazzina che rimane in prognosi riservata nel reparto di terapia intensiva Sta reagendo alle cure a base di antibiotici ed è sempre rimasta vigile L'alunna della scuola media Leopardi era assente da una settimana Inizialmente i genitori pensavano si trattasse di un'influenza Smentita poi da una prima diagnosi eseguita all'ospedale Santa Croce di Fano E dagli accertamenti effettuati in quello pediatrico di Ancona Dove la ragazzina è stata trasferita In collaborazione con l'istituto comprensivo e l'amministrazione comunale di Saltara Sabato è scattato l'allarme che ha mobilitato il servizio di igiene e sanità pubblica Dell'area vasta 1 dell'Asur Il cui responsabile Massimo Agostini sta continuando a monitorare la situazione Ma dalle risposte arrivate oggi pare che gli esami siano tutti negativi E che quindi potrebbe non trattarsi di meningite Anche se c'è il rischio che le analisi siano state alterate dagli antibiotici Sono scattati infatti i protocolli previsti per la profilassi Che hanno interessato anche una cinquantina di soggetti Cioè persone che potrebbero essere venute a contatto con lei nell'ultimo periodo Dunque noi abbiamo fatto come di prassi come è previsto da quelle che sono le procedure In questi casi abbiamo coinvolto i compagni di classe del soggetto che ha sospetto di meningite E anche una squadra di calcio perché giocava anche in una squadra di calcio E anche avendo fatto una partita a Iesi anche gli avversari di questa squadra di calcio Attraverso i colleghi di Iesi che hanno collaborato a questa attività Da un punto di vista della prevenzione quindi abbiamo coperto tutti quelli che sono considerati Soggetti ad alto rischio nel caso di contatti con la meningite Che cosa è stato somministrato? Dunque in questi casi si somministra un antibiotico In genere nell'adulto basta anche una sola somministrazione Per coprire da un punto di vista della prevenzione Nei bambini si fa una somministrazione ogni 12 ore per due giorni Quindi è stato distribuito a tutte le famiglie l'antibiotico sia per i bambini E agli adulti e soprattutto gli insegnanti Quelli che erano a diretto contatto con il bambino L'antibiotico per un'unica somministrazione Il responsabile sanitario che ricorda l'importanza della vaccinazione Ha confermato inoltre che non c'è nessuna relazione con il caso verificato Sia ad Orciano il 25 gennaio scorso E che ha portato alla morte del piccolo Francesco di appena 10 anni Sì perché l'incubazione di questa malattia è di 10 giorni Qui è passato quasi un mese Poi sono due realtà completamente diverse E non abbiamo individuato nessun elemento di contatto Vicinanza è stata dimostrata dall'intero paese Dai familiari, dall'istituto comprensivo Leopardi Dalla società di calcetto in cui gioca E dalle atleti che condividono quella piccola i momenti sportivi La preoccupazione ancora resta Ma l'allarme si sta lentamente attenuando Per lasciare sempre più spazio alla speranza Che questa brutta avventura si possa risolvere il prima possibile E nel migliore dei modi E proprio a questo riguardo vi possiamo confermare Che poco prima di andare in onda Abbiamo sentito al telefono il dottor Agostini Che avete sentito nell'intervista del servizio Che ci ha confermato che non si tratta di meningococco Bensì di uno streptococco piogenes comune Che può essere comunque benissimo curato Con una normale terapia antibiotica Rimaniamo nel Salesi di Ancona Perché una bambina di due anni Residente a Lucrezia di Cartoceto Ha rischiato di soffocare per aver ingoiato Due monete rimaste nell'esofago La piccola è stata trasportata Ieri cosciente e tranquilla Dall'ospedale Santa Croce al Salesi di Ancona Dove i chirurghi si sono subito attivati Per recuperarle Questa mattina è passata l'anestesia Dopo una breve degenza E è stata rimandata a casa La famiglia ha ringraziato Gli operatori del pronto soccorso E della Croce Azzurra di Pesaro Per come hanno gestito l'emergenza E ancora nessuna traccia Della anziana scomparsa Sabato scorso Dalla sua abitazione Nella zona del Lido Si continua a cercarla Vediamo il servizio Sono ancora senza esito Le ricerche della pensionata Di 84 anni Scomparsa all'alba di sabato scorso Dalla sua abitazione In via Franceschini A Lido di Fano Ieri i sommozzatori Dei vigili del fuoco di Bologna Hanno scandagliato per tutto il giorno Il canale Albani Luogo in cui la donna Aveva dichiarato Di volersi gettare Per farla finita Si teme infatti Che l'anziana Da tempo depressa Abbia deciso di gettarsi Per porre fine alle sofferenze Dopo una lunga malattia Secondo i pompieri Se fosse caduta in acqua Il suo corpo sarebbe finito In mare aperto A lavoro dunque Anche gli uomini Dell'ufficio circondariale Marittimo di Fano A bordo di una motovedetta Hanno pattugliato Nello specchio antistante L'imboccatura della costa Da Fosso 6 ore Al Metauro Secondo quanto sostenuto Dai marinai del porto Se il corpo si dovesse trovare In acqua Il mare Lo restituirà Nei prossimi giorni Alle ricerche proseguite Anche oggi Hanno collaborato Sia la polizia municipale Che i carabinieri Infatti Sua figlia Aveva chiamato proprio Il 112 Per segnalarne La scomparsa Dopo due giorni Trascorsi da quel momento Gli sforzi per rintracciarla Sono risultati vani Nonostante il ricorso A un nico scandaglio E ad altre sofisticate attrezzature Ma ad ogni ora che passa Aumenta il pensiero Di una tragica ipotesi Il prefetto di Peso Rubino Luigi Pizzi Si è recato in visita Al comando provinciale Del corpo forestale Dello Stato Accolto dal comandante Maurizio Cattoi Il prefetto Ha espresso particolare Apprezzamento Per i risultati Conseguiti dal corpo Grazie a circa 9500 controlli E ad oltre 600 illeciti Repressi Nel corso del 2014 Inoltre Ha sottolineato La necessità Di rafforzare Ulteriormente La sicurezza ambientale E del territorio Pesarese La commissione Urbanistica e Ambiente Del comune di Fano Si è recata Presso il depuratore Delle acque Refle Vediamo come è andata E' stata una visita Conoscitiva Quella avvenuta Stamane Da parte Della seconda Commissione Del comune All'impianto Di depurazione Delle acque Reflue Urbane Ponte Metauro In via Tamirice A Fano Oltre al Presidente Cristian Fanesi E consiglieri Aramis Garbatini E Federico Perini Entrambi Componenti Della commissione Urbanistica e Ambiente Erano presenti Lucia Capodagli Presidente di Aset Spa Gli ingegneri Marco Romei Matteo Lucertini E alcuni tecnici Operativi del comune I consiglieri comunali Vengono a visitare I luoghi dove Appunto La gente lavora E in particolare Quei luoghi Che sono legati All'ambiente Quindi siamo stati In discarica Siamo qui E questo depuratore Che insieme a quello Di Bellocchi E quello di Ponte Sasso E' uno dei tre Depuratori della città Ed è il principale Ovviamente Perché convoglia Il 99.5% Di tutte le acque Insieme a quelli Di Bellocchi Appunto Ponte Sasso Della città di Fano E quindi Questo è un segnale D'attenzione Che noi vogliamo Porre A chi lavora In questi settori Nel settore dell'ambiente In particolare All'Aset Spa Insieme all'Aset Holding Perché crediamo Che occorre Far vedere alla gente Che le cose a Fano Sono fatte E sono fatte bene Questo è un impianto Ordinato Pulito Nel quale Sicuramente Questa città Può fare vanto Quanti sono i depuratori Nel nostro territorio? Nel nostro territorio Aset gestisce Sette depuratori Questo è quello più importante Quello di Ponte Metauro E qui vengono trattate Tutte le acque Nel 2007 Nel 2007 è stato installato Un impianto Per poter consentire La riduzione Dei consumi Dal 2007 Sì Sono stati sostituiti Gli impianti Di ariazione E quest'anno Abbiamo effettuato Un'ulteriore Manutenzione straordinaria E questo garantisce Un controllo Dei consumi elettrici Riducendoli In maniera sostanziale Questa mattina Spiegate anche Le fasi del processo All'amministrazione comunale Sì esatto Perché È bene Che le commissioni Che comunque Devono deliberare Decidere per i cittadini E per gli utenti Vedano dove Le attività Vengono svolte E in che maniera Qui abbiamo Telecontrollo Abbiamo personale qualificato Che esegue Continui aggiornamenti E tutte quelle Che sono le attività Operative Dell'impianto Vengono controllate Con continue analisi Per concludere La Capodaglia Ha voluto ricordare Rinaldo Tunucci Storico dirigente Dell'ASET In pensione Scomparso Sabato scorso All'età di 73 anni Dopo essere stato colto Da infarto L'uomo infatti Mentre guidava all'altezza Dell'ex caserma Paolini Si è sentito male Accostato l'auto È sceso A prendere una boccata D'aria E poi È crollato a terra Inutili Tentativi di rianimarlo Tunucci È deceduto Poco dopo In ospedale La nostra azienda Si stringe alla famiglia A Mariella Ai figli Tommaso Davide Perché di lui Abbiamo un grande ricordo Di Rinaldo Come direttore Dell'Acquedotto Prima nel comune E poi in ASET Quindi Le più sentite condoglianze A tutta la famiglia A chi l'ha conosciuto E che gli ha voluto bene Ed ora cambiamo argomento Parliamo di nuove dipendenze patologiche Perché il gioco d'azzardo Può essere una patologia Molto seria Per questo L'ambito territoriale Sociale 1 Assieme agli altri ambiti Della provincia Hanno avviato Un progetto Per sensibilizzare Gli alunni Delle scuole superiori Sui rischi Del gioco d'azzardo Che riguarda In particolare Le slot machine Le scommesse E la rete Giunti alla conclusione Dell'iniziativa Gli studenti Potranno assistere Alla conferenza Dal titolo Fate il nostro gioco La matematica E il gioco d'azzardo Questo format Verrà presentato Agli studenti Di Pesaro Domani Al teatro sperimentale E a Fano Al teatro Masetti Mercoledì Invece Appuntamento A Fossombrone Nell'aulamagna Dell'istituto Donati E al teatro Sanzio Di Urbino Recuperare E valorizzare La biodiversità Può essere Un'opportunità Non solo Per il mondo Agricolo Ma anche Per la comunità E la società A Urbino Si è tenuto Un convegno Proprio che parla Di questo Organizzato Dalla CIA Nel mondo La biodiversità Si sta progressivamente Riducendo In un secolo Si sono estinte 300.000 Varietà vegetali Solo nel nostro paese Sono a rischio di estinzione Ad esempio Oltre 2000 varietà Tra animali E vegetali Negli ultimi 50 anni Sono sparite Almeno 80 razze Tra bovini Caprini Ovini Suini Ed equini Molte razze antiche E varietà locali Sono a rischio Scomparsa Perché soppiantate Da varietà Più produttive Adattate ai sistemi Di allevamento E coltivazione Intensivi E alle regole Del mercato globale La scomparsa Di una varietà O di una razza È una perdita Per l'intero territorio Custodire O portare a produzione Una pianta rara Così come tornare Ad allevare un animale In via di estinzione Vuol dire quindi Salvare Un patrimonio economico Sociale Culturare Straordinario La CIA Confederazione Italiana Agricoltori Su questo tema Ha promosso ad Urbino Un convegno La biodiversità Per le filiere Zootecniche Dell'Appennino Che si è svolto Presso il palazzo Del collegio Raffaello Iniziamo un percorso Di convincimento Rispetto a chi gestisce Le politiche E quindi anche Le risorse Della grande importanza Che ha Il territorio Non solo Per l'agricoltura Ma anche Per l'intera società Il tema della biodiversità È un tema Che coinvolge Ormai tutta La nazione Biodiversità Come abbiamo sentito Non è solo Alimentazione Ma è anche Passatemi La battuta Un turismo Visivo Ed ora parliamo Di mare E di amanti Della vela Venerdì 27 febbraio Alle ore 21 e 15 Lo Yacht Club Marina Dei Cesari A Fano Apre la sua sedia A tutti coloro Che vorranno Trascorrere una serata Dedicata al mondo Della vela Verranno proiettati Momenti salienti Delle più belle tappe Della prestigiosa Regata Attorno al mondo La Volvo Ocean Race E come sempre Il lunedì Apriamo la pagina Dello sport E del calcio Perché è Granata Quindi l'Alma Mancini di Fano Dove agli ordini Del signor Pietro Scatigna Di Taranto Coadiuvato dagli assistenti Mauro Dell'Olio Di Molfetta Ed Emanuele Pansini di Bari Stanno per Scendere in campo Le squadre di Alma Juventus Fano In maglia bianca Olimpia Agnonese In maglia granata I colori sociali Della formazione Molisana Il tocco verso Olivi Quindi verso Gucci In area Gucci Mette nel mezzo Gucci C'è Sivilla Ancora si l'ha ribattuto Olivi Il tiro di Olivi Sivilla Attenzione il gol E c'è il gol Andrea Sivilla Al limite Il tocco verso Petrone Il tiro Dal limite E la parata Di Paolo Ginestra Che salva il risultato Si accentra Borrelli Mette nel mezzo Gucci di testa E c'è il gol Niccolò Gucci 2-0 Capitano Capitano Litterio Marconi Capisce tutto E fa ripartire Sopra L'errore di Marconi Attenzione Si è ricamato Al limite Ricamato Prova la conclusione Il gol L'errore di Marconi Verso Gucci Gucci Verso Lunardini Il tiro di Lunardini Salva Sulla linea C'è la gloria Anche per Lunardini Una ottima alma Piega L'Agnonese Apparsa comunque Poca cosa Qui al Mancini Bene Come sempre A seguire il telegiornale Potrete vedere La intera partita Con la telecronaca Di Sergio Catalani Prima di lasciarci Vi ricordo che Giovedì Torna Primo Cittadino L'appuntamento Col sindaco Di Fano Massimo Seri E per intervenire In diretta Potete contattarci Telefonicamente Allo 0721 861433 Oppure mandarci Un sms Un whatsapp Al 338 4968 250 Bene Con quest'ultima notizia Chiudiamo qui Questa edizione Di Occhio alla Notizia Grazie per essere stati In nostra compagnia L'informazione Torna domani mattina Alle 7.30 Con Occhio ai giornali Buona serata E buon proseguimento Con i nostri programmi